Una sottoscrizione popolare per una buona causa, Luca United, la cooperativa dei tifosi rossoneri che ha realizzato il progetto di azionariato popolare, ha avviato una raccolta di fondi per consentire ad un bambino lucchese disabile di poter accedere il prossimo anno alla Pascoli, elementare del primo circolo didattico, evitando così che la famiglia sia costretta a scegliere per lui un altro istituto. I soldi dovranno servire a realizzare un ascensore. Il caso già portato all'attenzione dell'opinione pubblica ha colpito molte persone perché la mancanza di questo ascensore all'interno della scuola rischia davvero di costringere questo bambino già duramente colpito dall'handicap di non poter frequentare l'ambiente in cui è cresciuto e gli amici della scuola materna. Luca United, fedele al suo impegno di contribuire ai valori che ne ispirano la missione, si è dunque attivato per contribuire a questo progetto al quale aderisce anche la società dell'FC Luca e l'intera squadra rossonera. I fondi vengono raccolti tutti i giorni presso Foto Alcide in piazza San Frediano ed il sabato pomeriggio in orario 17-19 presso il centro sportivo Vignini-Fiondella di Vittorio Tosto. Siamo certi che i tifosi rossoneri tutti non mancheranno di fare la loro parte, si legge in una nota di Luca United, come già accaduto in passato per simile iniziative. Nell'occasione vogliamo anche ringraziare sentitamente la società del presidente Giannecchini per la sensibilità dimostrata.